gentili telespettatori buona giornata per il reddito di cittadinanza c'è a chi verrà sospeso immediatamente cominciano a saltare i primi beneficiari di questo sussidio statale partono i primi controlli dell'inps e voi direte ma i controlli non dovrebbero essere fatti prima di dare il reddito partono i controlli adesso ebbè quando si dice che non è la repubblica delle banane mi permettete qualche leggerissimo dubbio i controlli si fanno prima non si fanno dopo e questa è la base l'abc della convivenza nella società dice non è che non mi fido di te è che non mi fido di nessuno perché dice che fai mi controlli prima cioè io ti chiedo il reddito e tu non hai fiducia in me nelle mie autodichiarazioni non mi credi la risposta dello stato dovrebbe essere non è che non ti credo è che io non credo a nessuno di principio che è la cosa giusta no che è la cosa giusta come c'è un programma famoso di una casa di impegno negli stati uniti a las vegas che credo che tutti magari lo vedranno che il proprietario quando le persone dicono guarda questa roba è autentica il proprietario della casa di impegno dice guarda non ti offendere non è che io non ti credo a te è che io non credo a nessuno perché facendo questo lavoro se dovessi credere a tutti sarei già fallito e lo stato infatti è fallito è fallito perché dice tu mi autocertifichi che sei che fai ma con l'autocertificazione la gente ha truffato a migliaia e migliaia decine di migliaia centinaia di migliaia hanno truffato lo stato tu autocertifichi io ti credo è io ti credo perché non dovrei crederti no è così adesso partono i controlli dell'inps vabbè insomma adesso partono i controlli nel 2023 molti non riceveranno più il reddito di cittadinanza che verrà sospeso subito oggi a chi dopo la riforma non rientra più tra i beneficiari fino ad arrivare alla totale abolizione del sussidio nel 2024 dal primo gennaio sulla base delle nuove direttive l'inps e i dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria hanno siglato ora il protocollo operativo per permettere il controllo automatico mensile il controllo automatico mensile ma il controllo automatico mensile dovevate farlo prima non adesso prima ti do il reddito poi dopo decido di controllarti no prima ti controllo poi ti do il reddito però sembra che queste cose così banali e semplici non siano recepite dalla dall'amministrazione statale italiana comunque questo vuol dire che già questo mese saltano i primi assegni perché cominciano a fare i controlli è bravi è bravi uno dei primi obiettivi è la stretta voluta dalla premier meloni è stato fin da subito quello di aumentare l'efficienza dei controlli su richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza attraverso lo scambio di informazioni tra gli uffici inps e quelli del ministero della giustizia a tal proposito come accennato sopra il 20 gennaio 2023 è stato infatti siglato il protocollo operativo tra inps e dipartimento d'app che consentirà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy la verifica mensile automatica dell'eventuale stato detentivo dei richiedenti il reddito di cittadinanza prima dell'erogazione del beneficio i controlli partiranno saranno fatti incrociati tra l'inps la direzione generale per i sistemi informatici automatizzati il dipartimento per gli affari di giustizia il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia è bravi allora i controlli li potete fare e ci hanno sempre detto ma lo stato non è in grado di fare i controlli perché i sistemi informatici non sono connessi quindi i controlli non si possono fare impossibile non si possono fare invece scopriamo che i controlli si possono fare basta solo schiacciare il tasto e ci si chiede perché non è stato fatto prima mistero della fede rendiamo grazie in piedi preghiamo come riportato dal comunicato dell'inps l'attuazione del protocollo consentirà all'istituto di disporre in automatico e immediatamente la revoca del reddito di cittadinanza il recupero della prestazione in debita e se poi mi spiegate come fate a recuperare come fate a recuperare i soldi già dati che la gente si è spesa ovviamente i primi controlli si concentrano sui casi di omessa dichiarazione a quindi c'è anche chi non ha fatto neanche l'autodichiarazione cioè gli danno il reddito e non ha fatto neanche i documenti dove si autodichiarano alcune cose cioè documentazione incompleta e viene dato il reddito di cittadinanza caspiterina che che paese che paese che paese si prevede infatti la decadenza quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro non sottoscrive il patto per il lavoro ovvero il patto per l'inclusione sociale non partecipa in assenza di giustificato motivo alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione ad altre iniziative di politica attiva di attivazione non aderisce i progetti utili alla collattività nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti non accetta almeno una di tre offerte questa fa ridere non esistono le offerte non presenta una dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare venga trovato nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità intento svolgere attività di lavoro dipendente ovvero attività di lavoro autonomo di impresa senza averlo comunicato bene tutte tutti questi requisiti non effetto la dichiarazione non sottoscrive significa documenti incompleti come avete fatto a dare un reddito con la documentazione incompleta è qualcosa di che neanche lo stato più peggiore del mondo fa una roba ma non esiste uno stato al mondo tranne l'italia che dà dei soldi con una documentazione incompleta neanche falsa incompleta cioè proprio non hanno neanche dato i documenti ci servono questi e non ce l'ho reddito no vi immaginate quando arriva quello che deve consegnare i documenti dice ce l'hai i documenti vediamo ne manca uno ne mancano due ah sì eh sì mancano i documenti ah non me lo dai lo stesso certo approvato vada vi rendete conto dell'assurdità non ha nessun senso a meno che non ci sia una corruzione tra quello che non porta i documenti e quello che dovrebbe controllare che dice qua non ci sono i documenti a questo punto dovrei dovrei non accettare il reddito però dipende da me eh fanno bene 50 eh non è a 100 eh no è tutto quello che ho eh va bene dai quindi siamo a posto così sì siamo a posto così mi arriva il reddito sì arriva arriva eh però non lo dica nessuno mi raccomando perdere il lavoro quindi o è così o o o è così arrivederci a tutti e grazie